Come aumentare così gli fps su Ready or Not? Ovviamente è possibile arrivare sopra i 95-100 fps grazie alle impostazioni di Nvidia, quindi in questo caso in questo tutorial ti spiego tutti i settaggi Nvidia e soprattutto anche un programmino compatibile con Nvidia. Per AMD bisogna provarla e per Intel invece non funziona, quindi trovi tutto in descrizione, quindi in questo caso passiamo direttamente al pannello di controllo di Nvidia perché faremo tutto attraverso il pannello di controllo di Nvidia, lo trovi direttamente in descrizione quindi puoi scaricarlo e installarlo senza problemi, quindi apro un attimo il pannello. Gestisci le impostazioni 3D, seleziona un programma da personalizzare, quindi tu clicca qua sopra impostazioni, programma e fai aggiungi, sfoglia, vai nella cartella di Ready or Not? e metti .exe e fai apri. Una volta fatto non ci resta che personalizzare tutte queste impostazioni qua, quindi ridimensionamento immagine io lo tengo attivo e lo metto sul 30%, la nitidezza questa sarebbe e fai ok. Antieles collezione gamma metti attivato, questo qua metti disattivato, Antieles modalità metti controllato dall'applicazione, Antieles in trasparenza metti disattivato, il buffering metti disattivato, scendiamo fino a giù fino a trovare il filtro anisotropico, metti disattivato, nessun controllo dall'applicazione, filtro struttura metti consenti, ottimizzazione della struttura metti disattivato, ottimizzazione trilineare della struttura metti attivo, scendiamo fino a giù fino a trovare la qualità, ovviamente sulla qualità metti prestazioni elevate al posto della qualità, perché a noi interessa di più aumentare le prestazioni al posto di migliorare la qualità e laggare, fotogrammi pre-renderizzati mettiamo 1, frequenza fotogrammi metti attivo fino a 1000 fps, non farai 1000 fps però aumenteremo gli fps grazie a questa impostazione, frequenza fotogrammi metti disattivato, rendering OpenGL metti selezione automatica, però io metto la scheda grafica la mia, quella che tengo nel computer, modalità bassa latenza metto disattivato, quest'altro puoi pure saltare, modalità di gestione di alimentazione, questo potenza ottimale, ottimizzazione con triad, metti automatico, e sotto per finire abbiamo la tecnologia monitor, se il tuo monitor è compatibile con questa G-Sync o FreeSync, quella di AMD mi sembra era FreeSync e questa qua Nvidia G-Sync e l'ho imposto, la più elevata disponibile, la più elevata disponibile, sincronizzazione verticale, metti disattivato, basta disattivato, noi non dobbiamo bloccare gli fps, dobbiamo aumentarli, quindi facciamo applica, applica più volte finché non si fa. Una volta fatto, chiudiamo un attimo il pannello di controllo di Nvidia, e in descrizione c'è l'altro programmino che si chiama Nvidia Profile Inspector, è un pacchetto RAR, quindi all'interno del pacchetto RAR c'è la cartella, entriamo così nella cartella, ora vediamo se qua abbiamo il ready or not, ed eccolo qua, ready or not.exe, scrivi qua sopra, scendi fino a giù, fino a trovare il texture filtering del DirectX e OpenGL, più 2.7500, ovviamente se hai problemi con il link puoi entrare nel mio server disco e ti mando il pacchetto, questi qua li devi mettere uguali. Una volta fatto, applichi più volte, se non ti piace, clicca qua sopra e ripristinerà il tutto. Tu puoi fare dei test su ready or not grazie a Nvidia Profile Inspector, e basta. Ora, non ci resta che entrare nel gioco e fare delle modifiche. Ok, ci siamo, ed eccoci qua nel gioco. Un attimo che abbasso un po' il volume. Ok, ora andiamo un attimo nelle opzioni, andiamo su grafiche, andiamo fino a giù, fino a trovare la modalità schermo intero. Poi su opzioni grafiche avanzate, guardate la texture, mentre metteremo la texture su medio, qualità delle ombre mettiamo basso, basso, qualità VFX, basso, distante disabilitazione metti media, frame rate massimo metti disabilitato, v-sync disabilitato per non bloccare gli fps, luce di rimbalzo lo togliamo, ombre per oggetto lo togliamo. Ora, se vuoi usare la AMD FX Super Resolution, che ti migliora così le prestazioni, oppure Nvidia DLS, quindi DLSS, questa qua la qualità, io mi tengo questo qua, prestazioni ultra, e basta. Abilitato più boost su Nvidia Reflex a bassa latenza, e basta. E basta. Quindi, per altri problemi ancora, puoi commentare sotto al video. Quindi, grazie a tutti per questa visione, e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.